Musica Bentrovati a tutti i telespettatori Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 3 giugno curate dalla nostra redazione Nicosia nella giornata del 31 maggio i carabini del comando compagnia di Nicosia unitamente a quelli del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania in collaborazione con il personale dell'ASP 4DN hanno eseguito un controllo igienico-sanitario presso un noto agriturismo situato tra il comune di Nissori e Nicosia La verifica ha permesso di accertare carenze igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla custodia degli alimenti L'ispezione ha riguardato tutti i locali dell'azienda agrituristica, nonché il controllo dell'area esterna di circa 30 ettari di terreno destina da custodia e pascolo di animali All'interno del locale ristorante veniva accertata la presenza di una dispensa e di una cella frigorifera per alimenti con all'interno scaffalature totalmente arrugginite con cibi e bevande adagiati sopra i ripiani Sempre all'interno del vano rifrigerato vi erano circa 200 kg di carne surgelata di vario tipo custoditi in cattivo stato di conservazione priva di protezione con evidenti segni di necrosi e bruciatura da freddo in parte scaduti di validità e privi di tracciabilità Inoltre venivano rinvenuti prodotti ittici scaduti da circa due mesi Nella parte esterna del locale vi erano delle celle frigo in carenti condizioni igienico-sanitari con scaffalature in metallo completamente arrugginite e dall'interno frutta, ortaggi e bevande varie adagiate sui ripiani Tutta la carne e gli altri alimenti sono stati posti sotto sequestro Il 39enne, titolare dell'agriturismo, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Enna per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e di stato di alterazione Nicosia con 4815 voti pari al 61,54% delle preferenze Il dottor Luigi Bonelli è il nuovo sindaco di Nicosia Doppiato il dottor Renato Mancuso che ha totalizzato 2252 voti e dunque il 28,78% di preferenze L'avvocato Antonino Montaperto ha raccolto 391 voti per un totale pari al 5% delle preferenze Giuseppe Britelli ha ottenuto 366 voti pari al 4,68% di preferenze Il nuovo consiglio comunale sarà composto da Nino Mancuso Fuoco Graziella Trovato, Salvatore Balsamello, Giuseppe Bonelli, Carmela Castro Giovanni, Gianfranco Castro Giovanni Anna Rita Consentino, Salvatore Vega, Pino Castello, Maria Di Costa, Francesco Lagiglia, Filippo Giacobbe, Sergio Composto Sigismundo Livolsi, Santa Lovotrico, Ivan Bonomo, Giusi Gentile, Dario Scinardi, Luciana Spedale, Nando Zappia Nicosia, grande partecipazione di pellegrini per il tricentenario della nascita di San Felice da Nicosia Circa 5.000 persone da tutta la Sicilia si sono ritrovate nella spinata dell'orto dei frati Cappuccini di Nicosia per pregare, cantare, meditare e ricordare la figura dell'umile santo vissuto nel XVIII secolo Ottima l'organizzazione delle diverse associazioni che hanno curato l'accoglienza dei pellegrini indicando strade e monumenti della città Ottima anche la risposta dei commercianti e popolazione che hanno saputo affrontare questa importante prova con un numero elevato di persone Provincia di Enna, il 31 maggio e il primo giugno si è votato in sei comuni dell'ex provincia di Enna oltre che nel capoluogo si sono rinnovate le amministrazioni di Agira, Pietra Persia, Centuribio, Valguarnere e Nicosia Nel comune di Enna, Paladimino Crisafulli ha ottenuto il 40,95% dei voti ed andrà al ballottaggio con Maurizio Di Pietro che ha ottenuto il 24,35% Davide Solfato del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 17,45% mentre Angelo Girasole ha ottenuto l'11,25% Ad Agira vittoria per la parlamentare del Partito Democratico Maria Greco che ha ottenuto il 47,02% dei consensi Al secondo posto Giuseppe Bertolo con una lista civica che ha ottenuto il 27,79% e terzo Francesco Biondi del Movimento 5 Stelle con il 23,44% A Centuribio vince Elio Galvagno con una lista civica ottenendo il 53% delle preferenze Secondo posto Pernino Biondi con il 23,75% e terzo Svaldo Risiglione con il 23,24% A Pietraversia vittoria per Antonio Bevilacqua del Movimento 5 Stelle con il 38,64% Secondo Antonio Di Gloria con una lista civica che ha ottenuto il 31,63% Terzo posto per Francesco Di Calogero con il 29,73% A Balguarnera vittoria per Francesca Draia del Partito Democratico con il 34,09% Abbattuto il sindaco uscente Sebole Anza che con una lista civica ha ottenuto il 30,97% Terzo Giuseppe Interlicchia con il 29,08% E quarta Laura Scibona del Movimento 5 Stelle con il 5,86% Dico sia e non può ritenersi certa la lista dei 20 consiglieri comunali eletti i dati comunicati dall'ufficio elettorale del comune non sono definitivi e molte di queste incertezze nascono dai dati della sezione numero 12 che a quanto pare presentano delle incongruenze Questo ha comportato che in un primo momento venissero assegnate 5 seggi alla lista impegno comune e l'ultimo degli eletti Dario Scinardi risultasse eletto invece da un riesame dei risultati e dei verbali sembra che il seggio sia scattato alla lista Cambiamo Nicosia esattamente per la candidatura di Aurora Catalano In balottaggio questi due seggi quindi per la coalizione di Luigi Bonelli non cambia molto i seggi assegnati rimangono sempre 12 ma per i due giovani candidati come anche Compensibile cambia molto il risultato rimarrà in bilico almeno per altre 24 ore Da un riconteggio dei dati della sezione 12 inoltre potrebbero cambiare alcuni equilibri anche in altre liste ma queste fino ad ora sono solo ipotesi che non trovano un riscontro effettivo Lo stesso è accaduto per alcuni voti riportati dall'ufficio elettorale che non corrispondono invece a quelli rilevati dai singoli candidati ma fin qui ci potrebbero essere stati degli errori di trascrizione Da confermare invece il seggio per il Partito Democratico in balottaggio tra le candidati Composto e Scavuzzo Il primo in caso di pareggio risulterebbe eletto in quanto precede in lista il secondo ma è chiaro che si dovranno verificare i verbali per avere il dato certo e confermato Nelle prossime ore si avrà un quadro più preciso e l'elenco definitivo d'eventi eletti al Consiglio Comunale di Nicosia Con questo abbiamo concluso l'appuntamento alla prossima edizione dell'Unizia Flash curata dalla redazione di Telenicosia Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it Per le vostre segnalazioni potete scrivere la redazione chiocciola telenicosia.it Un saluto da Sergio Leonardi Grazie a tutti